Ciao, io sono Marco. Ciao, io sono Davide. Questa poltrona adesso è vuota, ma verrà occupata da diversi ospiti in diversi ambiti, giusto? Sì, giusto. Questa è un'idea che abbiamo avuto, di invitare varie persone in varie situazioni. Adesso vedete questa poltrona, queste sedie, ma cambierà tutto. Noi siamo molto dinamici. Tutto quello che vedete potreste vederlo completamente cambiato la prossima volta. Solo noi siamo sempre noi. Purtroppo. Forse, ma non è detto. Magari in una puntata ci sarà qualcun altro al posto mio, al posto suo. Siamo intercambiabili. Ma non ci facciamo la testa prima di comprare, ce la dai. Ma la domanda principale che faremo a ogni ospite è di chi si rufili. Perché le origini sono molto importanti, soprattutto per persone radicate in Abruzzo. Esatto. L'idea di questo podcast, di questo programma, è fondamentalmente scoprire dei talenti, delle persone. Qualcuno che ha qualcosa da raccontare, una storia da raccontare e che sia legato magari al mondo della cultura, dello sport, della politica, della letteratura, dell'arte, del cinema, della musica. Insomma, tutti gli ambiti che ci interessano. Noi comunque vogliamo sapere di chi si rufili. Grazie.